Anche la vecchia cattedrale di Montevago, recentemente rinata fra i ruderi del terremoto del 1968, grazie ad un progetto di recupero tra le location scelte per la campagna pubblicitaria del noto brand di moda Zara, è tra le tappe di un itinerario cicloturistico permanente da Trapani a Catania da percorrere in gravel o in mountain bike. Diverse le scene girate a Montevago inserite nel video promozionale e le foto pubblicate sul sito del noto marchio di moda, una scelta che non può che farci piacere e che consideriamo una vetrina preziosa per la valorizzazione e la promozione del patrimonio turistico e monumentale del nostro paese, ha commentato il sindaco Margherita Larocca Ruvolo, condividendo alcune scene dello spot sui social.